Cosa succede all'Ilva di Taranto? Succede che come ci scrive l'economista, come spiega l'economista Emiliano Brancaccio su Il Manifesto, in realtà ci sono dei nuovi eventi di capitalismo anti-ecologico che sembrano diventare dominanti per cui l'idea della ricapitalizzazione da parte dello Stato per portare avanti la riconversione ecologica dell'impianto e la bonifica del territorio appaiono ormai sconfitti. Il governo Meloni non ha nessuna voglia di mettere altri soldi pubblici sul progetto di acciaieria verde e si pare affermando che i contribuenti non capirebbero. Quindi il risultato è che in realtà questa bonifica, così ci dice il Manifesto, sostanzialmente non si farà.